Piedi, grazie, buongiorno a tutti. Ringrazio i moderatori di questa mattina, ringrazio tutti voi presenti. Siamo arrivati ormai al quarto giorno di forum e siamo tutti sparsi nelle diverse sessioni e numerose sessioni che si sono articolate in questi quattro giorni. Devo dire sono stati affrontati parecchi temi, sempre più frequentemente nelle diverse tematiche di questi quattro giorni. Si è parlato di infermieristica e di infermieri e questo ci fa ancora una volta dire come piano piano la nostra professione stia diventando visibile anche alle istituzioni esterne, oltre che hanno i stessi. Certo, parte del lavoro adesso tocca a noi, insomma, come gruppo professionale, come famiglia professionale. La riflessione che abbiamo scelto per questa mattina organizzata dagli ordini della Toscana e dalla Federazione è un tema ricorrente di questo anno che sono i quarant'anni di Sistema Sanitario Nazionale. Ormai ci sono già stati parecchi festeggiamenti e parecchie iniziative in giro per i paesi. Qua il 27 pomeriggio c'è stato un incontro molto interessante con tutti gli ex ministri della salute, dove sono state ripercorse le tappe di questi quarant'anni di Sistema Sanitario Nazionale. Mi permetto di dire, quarant'anni di Sistema Sanitario Nazionale che hanno accompagnato anche l'evoluzione degli infermieri. Questo è un dato oggettivo. Quando è partita la legge 8.33 del 78, gli infermieri c'erano. Chi è appassionato un po' di storia e di normativa ha ben presente la figura infermieristica in quegli anni. Molti di noi non erano ancora inseriti nel sistema lavorativo professionale, però abbiamo un po' letto e visto la nostra storia che ha radici tra l'altro ben più profonde. A che cosa abbiamo assistito? Sicuramente siamo partiti inseriti in un contesto nuovo. Tra l'altro la legge 8.33 ha ancora degli aspetti così innovativi che, nonostante siano passati 40 anni, non sono ancora diventati del tutto autoattivi. Penso ad esempio a tutto lo sviluppo della rete territoriale. Sono 40 anni che diciamo che dobbiamo sviluppare la rete territoriale e oggettivamente è forse uno dei temi che viene messo sempre nelle agende istituzionali e politiche, ma su cui non si è fatto forse quello che si poteva fare come potenzialità nel nostro paese. Sicuramente però gli ultimi vent'anni di questi 40 anni di servizio sanitario nazionale sono stati quelli più significativi per la professione infermieristica. Grazie a chi ci ha preceduto nei diversi ruoli che ricopriamo, di rappresentanza, di dirigenza, di formazione, sono stati sicuramente vent'anni, dove la professione infermieristica ha fatto un salto che in termini di calcolo algebrico è forse un salto di quasi un centinaio d'anni, quasi un secolo. A vent'anni noi siamo entrati in università come formazione, ci eravamo già prima con le scuole per dirigenti, ma era un momento non così aperto anche in termini numerici. Siamo entrati con la formazione di base e da lì abbiamo continuato a costruire i nostri percorsi formativi. Prima con i diplomi, mi ricordo e vi ricorderete, di diploma universitario in scienze infermieristiche, poi con il diploma universitario di infermiere, poi con la laurea triennale e poi sono arrivati i percorsi aggiuntivi, laurea magistrale, master di primo e di secondo livello, fino ad arrivare oggi ai dottorati di ricerca e ad avere i nostri dottori di ricerca. Sono stati vent'anni che hanno avuto uno sviluppo importante anche nel sistema organizzativo manageriale, perché ci sono stati evoluzioni e modifiche, alcune le vedremo oggi, ci sono alcuni due nostri colleghi relatori che ci parleranno di esperienze di management, quello che ormai gli studi di organizzazione chiamano posizioni contendibili, quindi il fatto di ricoprire una posizione, un ruolo all'interno di un'organizzazione che non è tanto legato al profilo professionale di appartenenza, che è ancora un meccanismo che dobbiamo scardinare, ma quanto è legato invece al possesso di competenze o una formazione particolare. Guardate che questo lo vediamo sempre più frequente, soprattutto in questo periodo continuiamo a vedere, continui tentativi di dire e di sostenere che un posto, una posizione, un ruolo all'interno dell'organizzazione è da attribuire in funzione del fatto che io appartengo ad un profilo professionale o ad una professione, ma non perché ho una serie di competenze. Il ragionamento che deve prevalere è il ragionamento che una posizione è ricoperta all'interno di un'azienda perché uno dimostra di possedere conoscenze e competenze, sia dal punto di vista clinico, sia dal punto di vista organizzativo manageriale. E quindi questo è un elemento su cui tutti ci dobbiamo impegnare perché dobbiamo in qualche modo evitare e riproporre e sostenere questi schemi vecchi che i posti vanno occupati in funzione della professione che rappresentiamo. Non rispetto a noi, ma anche rispetto penso soprattutto a nostri cugini di altre professioni sanitarie, quando continuano a ritenere che certi sviluppi di carriera o certe possibilità sono da tenere connotati rispetto al profilo di appartenenza. Penso ad esempio a una tematica assolutamente trasversale come la gestione del rischio clinico. Con la legge 24 del 2017 l'onorevole Gelli e tutti quelli che hanno lavorato per quella legge, anche appartenenti alla nostra professione, hanno fatto un lungo lavoro per andare a sostenere che c'è una responsabilità degli esercenti delle professioni sanitarie, che deve essere giocata a tutti i livelli. In quella legge c'è scritto che il responsabile del rischio clinico è un medico, ovvero un appartenente alle professioni sanitarie con tre anni di comprovate esperienze e formazione. Questo è scritto in una legge, dopodiché assistiamo a continui tentativi, ad esempio, di andare a dire o qualcuno che cerca di far dire che se c'è il medico è una cosa diversa, se ci sono le altre professioni è un'altra cosa diversa ancora. Quindi quando faccio riferimento al fatto di tenere conto e occupare posizioni e ragionare di ruoli all'interno di un'organizzazione, non partendo dalla professione di appartenenza ma partendo dalle competenze, faccio riferimento a questo tipo di esempi. E questi, come dire, li vediamo quotidianamente. Ma questi forse sono anche un po' la risultante di questi 20 anni di sviluppo che ha avuto la nostra professione, perché abbiamo raggiunto sia nella formazione che nell'organizzazione livelli importanti. A mio avviso su cosa ancora dobbiamo lavorare in maniera importante e fondamentale? Sulla clinica. Noi abbiamo bisogno, noi infermieri, di ritornare alla clinica. Abbiamo bisogno, caso mai qualcuno avesse avuto qualche idea, di non abbandonare la clinica. Inteso come letto del paziente, inteso come relazione assistenziale con la nostra persona, con il nostro assistito. Intesa come relazione privilegiata che ogni infermiere deve avere con chi assiste. Perché se noi perdiamo il contatto con la clinica, perdiamo il contatto con le nostre persone assistite, abbiamo perso non solo un elemento valoriale della nostra professione, ma abbiamo perso anche un'opportunità, un sviluppo della nostra professionalità. Perché la nostra professionalità non si sviluppa vicino alla tecnica. La tecnica c'è, deve essere funzionale allo sviluppo della nostra professione. Non può essere l'obiettivo di sviluppo. E allora in questo senso, quando noi ragioniamo di percorsi di formazione specialistica, sperando di poterli riprendere in maniera abbastanza rapida e sperando di poter arrivare a definire, sapete da pochi giorni si è insediato un nuovo sottosegretario alla salute, l'assessore alla sanità del Veneto Coletto. Sapete anche che il Veneto nel 2011 è quello che ha partito a chiedere al Ministero intanto lo sviluppo delle competenze specialistiche. E che il Veneto in questi anni ha continuamente tenuto sollecitato il Ministero, soprattutto quando Coletto aveva la presidenza della Commissione Salute in conferenza Stato-Regioni, sullo sviluppo delle nostre competenze specialistiche. Quindi questo mi fa ben sperare che si possa aprire un percorso dove, devo dire, che si inserisce in un solco dove si è già sviluppata una certa sensibilità. Perché in quest'ultimo anno abbiamo avuto parecchi incontri, ad esempio a livello del Ministero dell'Università e dell'Istruzione, su questo tema. E abbiamo avuto anche degli incontri con i nostri professori, con le scuole di dottorato e con i nostri professori ordinari, che sono la nostra massima espressione all'interno del Paese. Devo dire, questo ci confrontavamo con il Comitato Centrale, che a differenza di anche un paio d'anni fa, è molto cambiata anche la percezione dell'Università rispetto alla nostra formazione specialistica. Voi sapete che la nostra formazione specialistica ha avuto un travaglio, insomma, un po' particolare in questi ultimi anni. Da un lato è vero che il personale pubblico dipendente, anche se gli infermieri non sono solo pubblici dipendenti, ma sono la maggior parte, ha avuto un blocco contrattuale di dieci anni e in dieci anni ha cambiato il mondo. Ma è anche vero che fino a quando era possibile ragionare dello sviluppo professionale clinico nei contratti di lavoro, la materia non è mai stata affrontata, perché è ritenuta troppo complessa. Se si leggono i verbali, si vede chiaramente che la materia viene rimandata perché è ritenuta troppo complessa. Abbiamo perso un treno, forse, però possiamo recuperare e questo è importante. Sicuramente in questi ultimi dieci anni non abbiamo tanto lavorato e costruito concretamente sulle nostre specializzazioni e sulle nostre competenze specialistiche. Se dovessimo fare un'analisi dei punti di forza, dei punti di debolezza, delle strategie che abbiamo messo in campo, io mi sento di dire, guardando un po' questo periodo storico, che sicuramente l'elemento che ci ha sempre guidato, che era quello di considerare, come dire, il possesso di una formazione specialistica come titolo preferenziale per occupare certi ruoli e certe posizioni, noi l'abbiamo sempre considerato elemento facoltativo, titolo preferenziale. Ma questo forse non ci ha aiutato, anche perché c'è un tema fondamentale, che è la specializzazione richiama l'infungibilità. La non specializzazione richiama la compensazione, che è un termine che ahimè molti di noi conoscono, se non forse tutti, forse anche per le traduzioni malinterpretate che sono state fatte di questo termine a partire dai codici deontologici. Però c'è questo elemento fondamentale, se dobbiamo leggere, fare una lettura in termini, come dire, utilizzando una bibliografia di tipo organizzativo manageriale, specializzazione uguale infungibilità, generalista uguale compensazione. Questo che cosa ha portato? Che in questi anni non abbiamo neanche rafforzato concretamente sul campo la nostra formazione specialistica, le nostre specializzazioni, perché, permettetemi di generalizzare un pochino, certo che poi abbiamo esperienze magari significative, ma che sono, come dire, un po' macchia di leopardo nel nostro paese, perché un percorso di formazione specialistica, essendo ritenuto preferenziale, non sempre è stato valorizzato all'interno delle aziende. E dove è stato valorizzato? È stato valorizzato, magari in termini di incardinamento di una funzione all'interno di un'organizzazione aziendale, difficilmente con un riconoscimento previsto dal contratto. Da questo punto di vista i contratti di lavoro, sia della dirigenza che del comparto, hanno sempre comunque prediletto uno sviluppo organizzativo manageriale della nostra professione. Tant'è vero che abbiamo raggiunto livelli importanti, ma se io voglio premiare la competenza clinica specialistica, non ho mai avuto particolari possibilità, a meno che, all'interno di ogni azienda, all'interno delle modalità contrattuali di ogni azienda, non si siano definiti percorsi particolari o accantonamenti particolari. Faccio degli esempi molto concreti, visto che poi Saverio Proia entrerà proprio nel merito del contratto, perché poi qualcuno mi dice, sì ma a ISO contratto qualcosa si poteva già fare. Se pensiamo ad esempio alla produttività piuttosto che alle progressioni di carriera, le cosiddette fasce. Sì, è vero, ci mancherebbe. Bisogna avere la forza di andare sul tavolo sindacale e negoziare che quella roba non è per tutti, ma che deve rispondere ad un disegno organizzativo che è quello di valorizzare le competenze specialistiche. Vogliamo provare a capire dove è stato fatto? Quindi questo, ad esempio, è un elemento. È vero che ISO risorse si poteva fare. È anche vero che dopo l'intervento del decreto legislativo 150 molte cose sono uscite dalla sfera di dominio contrattuale, sono entrate nella sfera normativa, ad esempio le progressioni verticali, quindi non si sono più potute fare se non ancora con una modalità concorsuale, non come progressione interna. Quindi abbiamo una serie di strumenti normativi da un lato che non hanno favorito questo sviluppo, ma abbiamo anche probabilmente un nostro problema di crescita professionale e di sviluppo della nostra professione rispetto ai percorsi formativi. E allora questo comitato centrale, anche fin dal mandato precedente, ma rafforzato soprattutto in questo anno, ha iniziato a riflettere, ha iniziato a elaborare. Abbiamo avuto un incontro la scorsa settimana ad esempio con alcuni rappresentanti dell'università, abbiamo iniziato a riflettere e a introdurre il binomio specializzazione in fungibilità. Cioè significa che se io ho un percorso, non la chiamo neanche più di formazione specialistica o di competenze specialistiche, ho un percorso di specializzazione, divento infungibile per quel settore o per quale attività. Certo c'è un equilibrio sottile su cui dobbiamo riflettere. L'equilibrio sottile è dove si ferma la specializzazione e dove si continua con l'attività cosiddetta generalista, non generica, perché se no anche qua voglio dire i termini, la lingua italiana è bella e ricca usiamo i termini come devono essere utilizzati. Perché se vado in maniera spinta verso la specializzazione, vado verso un rigidimento del sistema che forse non conviene neanche a noi infermieri e neanche al nostro sistema per i bisogni dei cittadini. Ma se invece trovo un equilibrio, ad esempio sull'area medica, chirurgica, della salute mentale, del territorio, che hanno caratteristiche profondamente diverse, l'area critica dell'urgenza, intendendo sia quella ospedaliera che territoriale, beh voi capite che le differenze intanto iniziano ad emergere. E allora questo tema è un tema che dobbiamo affrontare in maniera seria e importante. Perché vi dico questo? E perché insisto su questo aspetto? Perché è vero che noi siamo arrivati a 40 anni del nostro sistema sanitario nazionale, ma è anche vero che in dieci anni che abbiamo di fronte. Sono dieci anni fondamentali per il nostro sistema sanitario, verrebbe da dire socio-sanitario. Per il sistema, per i bisogni dei cittadini, ma anche per noi infermieri. E dico questo perché noi oggi sappiamo quali saranno i bisogni di salute fra dieci anni e come saranno connotati. Perché dieci anni fa sapevamo che cosa avremmo avuto oggi come bisogni di salute. Saperlo oggi ci aiuta a ragionare su cosa mettere in campo dal punto di vista della nostra formazione, dal punto di vista del nostro sviluppo organizzativo per essere all'altezza delle situazioni che si presentano fra dieci anni. Ormai tutti i dati ci dicono che l'Italia è un paese più vecchio, perché l'età media in qualche modo aumenta, aumenta anche quella delle professioni sanitarie. Un paese più povero e un paese più solo. Non abbiamo nient'altro da inventarci rispetto a questi indicatori. Dopodiché c'è tutto lo sviluppo di come si andranno a modificare, come si stanno modificando i bisogni di salute. Allora, siccome in alcune regioni si parla ancora di dover integrare ospedale e territorio, ci sono regioni decisamente più avanti, beh io dico che questo è già superato. Perché non è più solo il tema dell'integrazione ospedale e territorio, è il tema di spostare la risposta ai bisogni al domicilio, nella prossimità. Di organizzare, e lo vedremo dai colleghi che ci presenteranno le esperienze, risposte ai bisogni di salute e di assistenza, dove le persone vivono la loro quotidianità. Perché il sistema non potrà più reggere, ad esempio. E allora, immagino, sapete, c'è tutto un interesse di molte aziende che si occupano di tecnologia. Guardate, io questo ragionamento non l'ho mai fatto, però più passano i giorni e più, come dire, vengo, veniamo cercati da una serie di stakeholder presenti sul territorio, lo sviluppo tecnologico cambierà profondamente le risposte ai bisogni di salute dei nostri cittadini. Perché banalmente siamo nella regione, perdonami Nicola, perdonami Danilo, che qualche anno fa è partita con questa crociata sul Seentreet, che periodicamente ritorna fuori, in maniera anche un po' noiosa, mi verrebbe da dire, con una regione confinante che li fa da sponda, più qualche altra regione un po' più lontana. Penso alla recente polemica, ad esempio, ancora sul Peak Team e sulle ecografie, che qualcuno di voi avrà visto. Ma sapete che adesso gli ecografi sono grandi così. Si mettono veramente in tasca. Con questi si va al domicilio del paziente, si guarda patrimonio venoso piuttosto che altre cose, piuttosto che monitor multiparametrici, sono grandi così. Addirittura se non sono collegati in remoto con il domicilio del paziente. La regione Lombardia sta sperimentando sulle ambulanze, dove non ci sono medici, in realtà neanche infermieri, perché gli infermieri sono sull'automedica, che non si chiama più neanche automedica, si chiama soccorso sanitario o mezzo avanzato, che ha fatto, e questo lo dice il Ministero, perché forse è più sfuggito, ad esempio, che il Ministero della Salute, ancora alcuni anni fa, non tantissimi perché c'era già Urbani, direttore della programmazione, ha fatto una nota a tutti gli assessorati, dove ha specificato che per mezzo di soccorso avanzato si intende il mezzo con a bordo o il medico o l'infermiere o entrambi. Ha detto il Ministero. In Lombardia stanno sperimentando degli occhiali dove il medico che è sempre presente in centrale vede quello che succede sul mezzo di soccorso. Quindi di cosa stiamo parlando? Noi stiamo andando incontro a un'evoluzione tecnologica che cambierà profondamente la modalità di risposta ai bisogni di salute, che cambierà profondamente le relazioni tra le professioni, che cambierà profondamente le competenze delle professioni e i ruoli delle professioni. Perché l'evoluzione tecnologica fa saltare alcuni passaggi. Perché, scusate, chi sostiene che questa cosa qua, che in realtà è solo il mio telefono, però in un futuro potrebbe essere un ecografo, un monitor, un qualcosa che io mi porto al domicilio del paziente. Deve essere utilizzato, ritorno al discorso iniziale, giusto per non essere fraintesa, solo da che appartiene a un determinato profilo professionale, non da chi ha le competenze. Vogliamo allora sostenere che, ad esempio, il difibrillatore semiautomatico, ovunque c'è, anche al supermercato, deve avere a fianco un medico? Cioè, capite che le risposte ai bisogni, soprattutto certe tipologie di bisogni, si stanno così connotando, quelle cosiddette tempo dipendenti, che diventeranno, scusatemi se lo dico, ma chi mi conosce sa che sono franca, sempre più laiche come risposte. E il professionista sanitario deve essere quel professionista che padroneggia la sua disciplina scientifica, le sue competenze, la sua conoscenza, la sua formazione, la sua preparazione, la sua esperienza e la sua capacità di discernimento decisionale per capire quando la macchina non basta più, quando l'algoritmo ha fatto quello che doveva fare. E allora, se entriamo in questa logica, ci rendiamo conto come molte delle sterili polemiche a cui noi continuiamo ad assistere, perché c'è qualcuno che veramente sta cercando di tenere fermo un sistema, ma è un sistema che non si può tenere fermo. Perché queste multinazionali o queste società che stanno ragionando di tecnologia lo stanno anche facendo, perché se i bisogni di salute fra meno di dieci anni sono quelli dove la persona è opportuna che stia al domicilio, dovrà stare al domicilio in condizioni di sicurezza. Dovrà stare al domicilio in qualche modo monitorato, telemonitorata o gestita in remoto. Certo, c'è qualcuno che deve decidere come va fatta questa gestione in remoto, che deve poter intervenire e fare una valutazione decisionale. Allora il nostro ruolo, ma non solo il nostro, si sposta sempre di più dal fare tecnicamente, operativamente, al presidiare, al programmare, al pianificare, al valutare gli esiti, a valutare, a tenere monitorato, a fare supervisione di tutto quello che c'è attorno al paziente e dei percorsi del paziente. E allora se questo è il panorama che abbiamo di fronte, ma guardate che non siamo tanto lontani. Io raccontavo ai colleghi un dettaglio di un presidente di un'associazione europea che ci vuole incontrare, non fatemi dire insomma perché, che inizia a dire forse questa non è più una roba dei medici, questo lo possono fare anche gli infermieri perché non è invasiva. Quindi sta capitando più frequentemente di quanto non immaginiamo, ma perché questa è l'evoluzione che non si può fermare e questo è il progresso. Ma non si può fermare neanche, come dire, la modifica dei bisogni di salute dei nostri cittadini. Allora prima accogliamo che il decennio che noi abbiamo di fronte è veramente un decennio che ha queste caratteristiche, è un decennio che non ci può permettere di fare, di essere spettatori passivi. È un decennio che ci chiede di essere attori protagonisti. Su che cosa? Sulla nostra formazione. E ritorno al tema della specializzazione. Perché ormai la nostra disciplina è diventata una disciplina tale per cui ha bisogno di essere canalizzata in sviluppi specialistici. Perché, cari colleghi, partecipare a un concorso, quando si fanno, perché non è il tema di oggi, però anche su questo bisognerebbe riflettere, insomma, che deve coprire le necessità di tutta un'azienda, dall'assistenza domiciliare all'urgenza territoriale, passando per la terapia intensiva neonatale, per l'oncologia e per la cardiochirurgia, per fare degli esempi. Beh, non è proprio la stessa cosa. I nostri colleghi che lavorano nell'area dell'urgenza emergenza, quanto li stiamo sostenendo nella loro formazione specialistica affinché possano rapportarsi all'interno dell'equip o interpretare questi ruoli e queste posizioni ormai consolidate, tranne qualche nostalgico, non della nostra professione. Ma quanto possono, come dire, essere tranquilli e rasserenati rispetto al fatto che stanno dominando un patrimonio di conoscenze e di competenze adeguato rispetto a quello che si sta chiedendo loro. Perché, vedete, uno dei temi fondamentali di questi dieci anni è quello legato al fatto che noi infermieri, così come tutte le altre professioni sanitarie, dobbiamo continuare a studiare. Non è più pensabile prendere un diploma di laurea di infermieristica o di infermieristica pediatrica, incorniciarlo, appenderlo e insieme al diploma di laurea, dico sempre io, appenderci anche la testa del professionista. Eh no, perché il diploma lo posso appendere. Dopodiché, dal giorno dopo che ho discusso la tesi e che ho l'abilitazione all'esercizio professionale, io riapro i libri. Perché l'evoluzione è così rapida e continua che non ci può impedire di non continuare a studiare. Anzi, noi dobbiamo formare i futuri professionisti all'idea che devono continuare a studiare. Anche perché, vedete, cari colleghi, non si va più in pensione con 19 anni, 6 mesi, un giorno di lavoro o con 25 anni che non aveva un figlio non era sposato. Non lo so se andrebbe in pensione con la quota 100 perché non l'ho ancora capito oggettivamente, ma saranno eventualmente scelte individuali. Però si va in pensione dopo almeno 30-35 anni di attività se si arriva alla pensione. Io posso pensare di fare per 30-35 anni sempre le stesse cose al di là del fatto che perdono anche di evidenza scientifica quelle che faccio e che continuo a fare così perché non le ho parlate a fare così ma il mondo è andato da un'altra parte. No, non posso pensare di fare per 30-35 anni le stesse cose ma banalmente perché non ci saranno più gli stessi pazienti con gli stessi bisogni. Quindi, come dire, la sensibilità e la consapevolezza che la nostra è una professione intellettuale che dobbiamo continuare a studiare pur avendo un'abilitazione all'esercizio professionale questo intanto è il primo aspetto. L'altro aspetto e ritorno al tema della formazione specialistica dobbiamo continuare a studiare ma dobbiamo come dire entrare in possesso di conoscenze con un alto valore specialistico perché la vera differenza sarà quella perché qualche regione qualche direttore generale inizia a dire ma perché io devo fare un unico concorso dopo di che l'infermiere lo metto ovunque con il risultato che se ho una formazione di un certo tipo e quando vado a fare i colloqui dico ma io vorrei essere inserito in quell'area in quel settore perché mi sono pagata io una formazione in quell'area ah ma io ho il buco da un'altra parte che è il tema di formazione generalista compensazione certo la dobbiamo avere una quota di compensazione ci mancherebbe ma dobbiamo anche avere una quota di infungibilità infermieristica perché a seguire il triage o sul mezzo del soccorso avanzato o nelle cure domiciliari nelle cure palliattive o in terapia intensiva neonatale io non posso mettere un'infermiere generalista il sistema non può mettere un'infermiere generalista perché intanto esponiamo il nostro collega ad assumersi responsabilità su un settore dove probabilmente non è stato seguito in maniera appropriata fino in fondo la sua formazione specialistica e sono anche un po' stanca di sentirmi dire ah ma poi deve fare formazione professionista io lo inserisco e poi continua a fare formazione su campo ma il sistema sanitario non è più questo socio sanitario il sistema dei bisogni di salute non è più questo allora iniziamo a trovare un connubio tra formazione specialistica setting assistenziali e competenze che devono essere padroneggiate perché vedete altrimenti le punte più avanzate delle nostre esperienze falliscono perché l'infermiere ad un certo punto si sentono fragili sul dominio di conoscenze di competenze che devono avere da un lato dall'altro abbiamo sempre questi nostalgici a cui dovremmo insomma anche abituarci che intanto che continuano a parlare dell'ecografo da un'altra parte veramente si sperimentano gli occhiali che vedono cosa succede sul mezzo di soccorso quindi abbiamo davanti una sfida a mio avviso in questi dieci anni che è troppo importante per la nostra professione e io sono convinto che noi abbiamo le carte in regola per affrontarla abbiamo la possibilità di ragionare di percorsi universitari sabato abbiamo fatto un incontro abbiamo parlato per la prima volta di scuole di specializzazione infermieristica non sono qua a dirvi due tre anni quattro anni dopo la laurea di primo livello dopo quella di secondo dopo il master dopo questo intanto stiamo abbozzando ragionamento sulle scuole di specializzazione infermieristica ne parleremo anche in consiglio nazionale a metà dicembre con i presidenti perché i presidenti provinciali sono i nostri primi interlocutori politici sono quelli che rappresentano tutti voi nei vostri territori e nelle vostre province sono quelli sono quegli interlocutori privilegiati dalla federazione ma anche dagli stakeholder territoriali istituzionali perché con loro ragioneremo di questi aspetti perché il percorso lo dobbiamo iniziare perché da qua dieci anni non sappiamo che sistema sanitario avremo non sappiamo quali cittadini avremo non sappiamo quali bisogni di salute avremo indicativamente possiamo già dedurlo ma probabilmente da qua dieci anni usciranno anche una serie di cose che noi oggi non immaginiamo neanche quindi dobbiamo anche ragionare per la formazione dei nostri futuri professionisti e di chi è già professionista con questo orizzonte temporale senza neanche ben sapere di preciso che cosa ci troviamo di fronte perché se pensate ad esempio ai lavori inventati in questi ultimi dieci anni penso all'influencer ma dieci anni fa si poteva immaginare un lavoro del genere ma per i nostri figli e per i nostri nipoti possiamo immaginare che lavori verranno fuori o che occupazioni verranno fuori in un arco temporale di un decennio di un ventennio no però dobbiamo prepararli e dobbiamo far diventare consapevoli loro che devono comunque studiare e capire qual è l'evoluzione del sistema per poterla governare e non per subirla allora io ritengo ma lo dico veramente con molta serenità che noi siamo la professione che può governare l'evoluzione del sistema qualche altra professione probabilmente la subirà non sono gli infermieri però per poter governare l'evoluzione del sistema abbiamo bisogno di ragionare con chi è già inserito nel mondo del lavoro ma anche con chi ha informazione sul fatto che uno bisogna continuare a studiare due bisogna studiare andando verso i percorsi di specializzazione guardate che lo sviluppo della nostra professione non è solo sull'ambito manageriale e organizzativo lì siamo arrivati a livelli inimmaginabili oggi sentirete l'esperienza di chi si occupa di direzione socio-sanitaria il collega Flavio Paoletti l'esperienza di chi fa il direttore di distretto cosiddetta posizione contendibile abbiamo infermieri i colleghi infermieri che sono direttori generali direttori di dipartimento quindi non è un tema in discussione l'evoluzione manageriale perché quella mi sento di dire ormai è consolidata ma noi dobbiamo riflettere e dibattere sull'evoluzione di tipo clinico specialistico senza dimenticare che il nostro punto di partenza il nostro elemento di forza è l'assistito la relazione con l'assistito la presa in carico dell'assistito perché se perdiamo questo non ci basta solo l'evoluzione tecnologica non ci basta saper fare l'ecografo se non so per cosa lo uso o soprattutto se penso di usarlo a scopo diagnostico l'ecografo deve essere funzionale a un processo primario che è quello di assistenza infermieristica e allora in questa logica la relazione con l'assistito è quella da preservare perché vedete vi racconto due o tre episodi poi chiudo perché credo di aver già portato via molto tempo però poi mi appassiono a parlare di queste cose perché è la professione che ho scelto che continuerei che sceglierei ancora se dovessi tornare indietro ed è la professione che secondo me veramente è in grado di gestire e dominare il futuro e non subire l'evoluzione tecnologica di questo ogni giorno ne sono più convinta in un post-operatorio ortopedico la classica protesi d'anca dell'ultra 85enne che 40 anni fa quando è nato il sistema sanitario nazionale non si poteva neanche immaginare perché voglio dire adesso si fa è quasi diventata consuetudine certo sulla tecnica operatoria dopodiché però per l'intervento di protesi d'anca viene somministrato per un sospetto processo infiammatorio sia l'antibiotico che il cortisone il cortisone sballa una glicemia voi dite si però si fa gli agnosi medica a parte che ripeto per una questione di algoritmi sarebbe anche da valutare ma se io infermiere non mi avvicino a questo paziente non lo guardo non lo tocco il gesto assistenziale non entro in relazione con lui non provo a capire quali sono i suoi bisogni per pianificare l'assistenza e mi limito a stare ad una scrivania a sistemare a controllare le terapie e a somministrare le terapie riesco a percepire le necessità di questa persona e magari fare anche un alert rispetto al fatto che probabilmente perché poi vi racconto un caso concreto ovviamente viene misurata la glicemia in un esame di routine normale quelli che ogni tanto si fanno periodicamente perché piuttosto che stagli a scegliere si fa la lista famosa degli esami viene fuori una glicemia di 400 diabetologo non diabetologo visita specialistica anti ipoglicemia esante orale poi insulina eh dopodiché però si finisce la terapia col cortisone e la persona va in ipoglicemia pesante voi potreste dirmi sì ma questi sono elementi come dire un processo decisionale diagnostico che non ci appartiene beh io penso invece che ci debba appartenere un pochino cari colleghi perché noi lì vicino alla persona assistita guardando la persona assistita possiamo fare la differenza ma vi faccio il primo esempio che mi è venuto in mente rispetto a un problema gestito girando l'Italia piuttosto che un altro esempio dove gli infermieri in una neonatologia pediatria si rendono conto che il problema della bimba era una tosse così particolare da sembrare per tosse hanno avuto solo un timido coraggio di farlo presente al medico fino ad arrivare a una conclusione grave per questa bambina dopodiché gli infermieri coserano di poi dicono ma noi avevamo capito e dillo dillo all'interno dell'equip si consapevole delle tue conoscenze delle tue competenze delle tue capacità anche come dire in qualche modo di discernimento rispetto ai dati che tu raccogli e sostieni la tua idea all'interno di un'equip multiprofessionale senza andare a dire mi sostituisco il medico ma portando quello che tu hai raccolto come dati assistenziali perché se poi ti sei accorto perché sei lì 24 ore sui 24 che anche il papà e la mamma tossiscono e forse questo diventa un elemento in più anche per aiutare un processo all'interno dell'equip multiprofessionale questi sono due esempi banali di come noi infermieri con la nostra competenza possiamo lavorare all'interno di equip multiprofessionali però come dire entrando nel merito dei processi clinico-assistenziali però per entrarci nel merito devo stare vicino alla persona assistita devo pianificare essere in grado e avere le conoscenze per pianificare devo in qualche modo orientare la mia formazione e le mie conoscenze su quello che sono i bisogni di assistenza infermieristica su quella che è la clinica e la specializzazione se mi stacco da tutto questo e vivo il mio ruolo perché altrimenti tutto quello che riguarda in qualche modo come dire la persona non è più roba degli infermieri perché anche questo sento dire da alcuni giovani beh abbiamo perso qualcosa di importante ma soprattutto abbiamo perso quell'elemento che io considero fondamentale nella nostra professione che è la capacità di gestire il cambiamento e l'innovazione perché lo abbiamo dimostrato in questi 40 anni di servizio sanitario nazionale lo abbiamo dimostrato soprattutto in questi 20 anni quindi in questo solco la nostra professione deve continuare sulla formazione e tutti i colleghi impegnati nella formazione ma anche sull'esercizio e sui modelli organizzativi assistenziali sulla capacità di padroneggiare anche i modelli organizzativi assistenziali perché questo è e quindi in questo connubio noi abbiamo un solco tracciato che è quello su cui stiamo lavorando come comitato centrale come federazione e che riteniamo ne parleremo ancora meglio nel consiglio nazionale ma abbiamo già dato delle insomma le tracce di lavoro nei consigli nazionali precedenti e che riteniamo debba essere quello che fa veramente la differenza negli anni immediati che abbiamo davanti come sistema paese grazie 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 grazie